Buongiorno a tutti, siamo qui sulla neve per l'evento Vans Attraction che ci dà la possibilità di provare la trazione 4Matic sui nostri Vans. Vans che rappresentano nella gamma Mercedes-Benz sicuramente i veicoli che partendo da classe V ed arrivando fino allo Sprinter sono in grado di soddisfare le esigenze di clienti privati ma anche di clienti che hanno bisogno di trasportare le loro merci. Per quanto riguarda i nostri veicoli commerciali possiamo dire che il 2016 ha rappresentato un anno per noi importantissimo poiché siamo riusciti a immatricolare 10.000 unità facendo un balzo importante rispetto al 2015, parliamo di una crescita di circa il 43%. I protagonisti di questa crescita sono stati sicuramente i Vans in senso stretto, quindi i veicoli che ci consentono e che consentono ai clienti di trasportare le loro merci ma soprattutto i veicoli per il trasporto delle persone. In primis fra tutti la classe V che con oltre 1.300 unità che sono state immatricolate ha consentito di soddisfare la clientela privata più esigente per il trasporto dei propri famigliari. Hanno decisamente interessante il 2016, ovviamente il mercato ha dato tanto quindi diciamo che siamo riusciti non solo però, e questo è grande soddisfazione per Mercedes-Benz, non solo ad inseguire il mercato ma a guadagnare dei punti rispetto alla concorrenza e rispetto quindi al mercato stesso. Devo dire su tutti i segmenti quindi a partire dallo small van dove noi abbiamo il Citan, nel midsize dove abbiamo il Vito e anche lo Sprinter che in realtà ha registrato nel suo segmento la più grossa crescita quindi guadagnando diciamo decisamente un interessante punto percentuale nella quota di mercato. Per quanto riguarda la classe V anche lei è nel suo momento storico e ha una gran bella storia la classe V nel panorama diciamo delle grandi monovolumi e che ha un target naturalmente sia di rivolto ad aziende diciamo che hanno desiderio di trasportare le loro persone con un'alta immagine e naturalmente anche molto forte nel segmento dei nolleggiatori con conducenti però molto apprezzata da parte delle famiglie, famiglie numerose, famiglie che praticano sport, che diciamo hanno, gli piace viaggiare e quindi ne apprezzano i suoi 6, 7 ed 8 posti. La classe V ha registrato ben 1400 numeri di matricolato e questo ripeto è il suo momento storico decisamente più interessante con i numeri più importanti. Una particolare menzione va fatta alle versioni diciamo quattromatiche della classe V e 4x4 della gamma Vans, apprezzate dalle famiglie, di chi opera business che ha necessità di ovviamente non avere fermi macchina, di avere la macchina sicura, performante in assoluta sicurezza e anche in condizioni estreme. Le nostre vendite naturalmente sono con i maggiori picchi poi durante il diciamo nel periodo nell'arco alpino e naturalmente appenninico, quindi dove queste condizioni sono più facili poi da trovare. Io penso che il mercato continuerà ancora a crescere, a dare un segnale positivo e noi a performare anche meglio rispetto al mercato stesso. La X è la sorpresa dell'anno, quindi la classe X sarà diciamo il pick up, il nuovo pick up di Mercedes Benz che entra in questo segmento, quindi a questo punto andiamo a coprire tutti i segmenti da quelli più numerosi a quelli diciamo più di nicchia, quelli più piccoli proprio per garantire il diciamo l'accesso al marchio a tutte le tipologie di target. Siamo qui al tonale sotto una tormenta di neve, questo è l'ambiente perfetto per il quattromatic attack per un'altra tappa, per un altro capitolo del quattromatic attack del 2017, ma oggi qui i protagonisti sono i Vans, i grandi monovolume di Mercedes Benz, che hanno tutti la trazione integrale quattromatic e in questo caso shuttle dei Vans sono le AMG, sono le vetture di alta classe di Mercedes Benz, perché i Vans di Mercedes, e qui parliamo di Vito, di classe V, di Sprinter, sono degli oggetti, sono dei veicoli premium che hanno tutta la tecnologia, tutto lo stile, tutta la trazione integrale esattamente delle grandi vetture Mercedes quattromatic e qui questo è il luogo migliore per poter provare, per poter mettere alla frusta questa tecnologia, perché voi sapete che quattromatic per Mercedes significa trazione integrale intelligente, quindi l'invenzione di Mercedes oramai da 15 anni fa è stata quella di gestire l'emulazione del blocco dei tre differenziali presenti sulla macchina attraverso l'utilizzo dei freni, quindi questo significa che è una trazione integrale molto tecnica, ma che è facile da usare, può essere utilizzata da tutti anche nelle situazioni quelle più complesse, quelle più impegnative e la macchina diventa sempre gestibile anche dalle persone che non sono esperte, che è una caratteristica fondamentale di Mercedes Benz, che parte dalla classe A e arriva fino alla GT, ma sono automobili che possono essere guidate da tutti.